E' aperto il tessera 2000 e... che anno siamo? Domenici a Roma? Mamma mia, quanta gente! Lì è buono! Allora, mi ricordo che Due Ruotte Libertà da quest'anno è riconosciuta da Alconi! Quindi con la nostra tessera siete anche associati a Alconi, quindi eccoci qua, due ruote in libertà, per tutto e per tutti! Questa è la versione nuova, due ruote in libertà, non vuoi una mainetta, eccola qua, non c'è problema! Si fa la sfilata dopo... No, lascia stare! Dopo fanno... accendono le note dopo la messa che fanno il bordello... Sono una cosa che fa! Viene ruote in senso! Orata da senti qui che, il problema! Non ce ne? Oltre vero... Non ce ne? Questa è una cosa che è un'impelle! Questa è un'impelle! Questa è un'impelle! Questa è un'impelle! Questa è un'impelle! tempo al minimo ma qui c'è tutta l'italia mamma mia e qualcuno magari era anche fuori allora la preghiera Dio altissimo signore dell'universo i cieli narrano la tua gloria e il firmamento annuncia le tue opere ricevi il nostro umile ringraziamento per le meraviglie della tua creazione tu che nella tua infinita sapienza hai dato all'uomo la capacità di progettare sempre nuovi metri di trasporto fa che i conducenti di queste moto nei vari percorsi di lavoro o di svago di amicizia siano sempre prudenti e saggi per la propria e altrui sicurezza e avvertono accanto a sé la tua continua presenza e ti raccomandiamo ancora questo motoraduno primavera 2019 con questa santa messa del centavolo la nostra vita sia una continua espressione del tuo amore per Cristo nostro Signore amico che il Signore sia con voi la benedizione di Dio Onipotente Padre Figlio e Spirito Santo che per voi rimanga sempre amico e possiamo sentire sempre il Signore con noi sulla serra in moto e viva e viva e e e e e e e e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.